STATE PER PARTIRE Oh Dio! Amir! È suo padre? Vai in cucina. Ma la babysitter non vi ha detto nient'altro? Purtroppo non lo so, ha parlato solo con mia moglie. Perché non l'hai ancora chiamato? Devi spiegargli tutto! Chiamala adesso, chiamalo subito e spiegagli come sono andate veramente le cose! Davvero, non volevo crearvi dei problemi, ma la bambina stava bene? Sì, sì, stava bene. Perché me lo chiede? Che cosa stai facendo? Non lo fai. Sarà un tic-toc! Lascia questa valigia! Non lo fai! Non lo fai! Ah Che cosa stai facendo? Sì Grazie a tutti.